ciao ragazzi un saluto nel vostro grinone bentornati nella nostra carriera episodio finale di stagione signori miei ci restano due partite la prossima è la partita della vita c'è poco da fare dobbiamo vincere perché abbiamo partita contro bayar monaco che dietro di noi a due punti poi avremo la partita col francoforte ma se vinciamo oggi siamo campioni di germania se pareggiamo andiamo a più tre anzi rimaniamo più due giustamente e quindi dobbiamo per forza vincere la partita col francoforte per essere sicuri perché nel caso noi pareggiassimo il bayern vincesse e quindi andassimo a punteggio pari sarebbero primi loro sia penso per differenza reti che comunque per scontri diretti nel caso perdessimo sarebbero veramente cazzi amari perché speranze ridotte il lumicino di arrivare primi comunque signori miei se vogliamo fare un bilancio della stagione siamo andati veramente bene perché avevamo l'obiettivo di qualificarci per l'europa league in tre stagioni e siamo automaticamente in champions in quanto il borussia dortmund è a otto punti di distanza sto cercando di tirare la lunga perché mi sto cagando ad osso ragazzi la verità è questa maglia bianca per noi maglia grigia per il bayern monaco signori io sono sopportafortuna voi adesso nei commenti voglio hashtag di rotenbullen con una t soltanto ripeto ovviamente non posso vederlo ma io lo voglio voglio sentire il vostro supporto in questo episodio andremo a vedere le prossime due partite ovviamente poi vediamo com'è la fine del campionato un po quello che succede in ufficio ci sarà forse già qualche trasferimento non lo so ecco i due nazisti col sorriso veramente psichedelico di commentatori tedeschi stadio di casa gremito undicesimo uomo in campo e undicesimo uomo davanti allo schermo che siete voi ragazzi inquadrato timo werner la squadra è pronta io sono pronto voi siete pronti possiamo cominciare no ben dentro per levandoschi pericolosissimo questo può tirare anche da centrocampo che i tasso di lui attenzione tiago la palla dentro per robin che prova a chiudere subito palla per grimaldo aggressivo il bayern monaco forsberg che ita chi mi ci chi mi prova a servire baccali attenzione baccali non ci arriva o black in porta per il bayern monaco deve essere arrivato a gennaio penso chi mi serve new curie che però dorme ragazzi non bisogna dormire queste partite qua non bisogna dormire in queste partite qua infatti che ita sta dimostrando di essere sveglio e attento timone werner basso per baccali baccali server timone la palla ancora sempre un po lunga un po lunga come il drago delle sette sfere stemperiamo ragazzi ma io sono nervoso come una merda intanto mamma mia timone werner che vuole i palloni osil che gioca col bayern monaco esterno d'attacco fra l'altro ancora osili in fascia occhio perché i calci d'angolo sono pericolosi come la merda levandoschi levandoschi attenzione robin il tiro di robin dalla distanza ragazzi questo giocatore qua ce l'avremo in squadra l'anno prossimo però è pericoloso e speriamo che rimanga così anzi ancora più forte grimaldo largo per emilione dentro per new curie new curie serve timone werner emilio è andato in fuorigioco timone werner adesso lo serve gli ritorna il pallone attenzione attenzione forsberg il cross dentro un po lungo alaba mette in calcio d'angolo quando è il ventiquattresimo proviamoci proviamoci non arriviamo di testa ancora il cross esche kimish kimish 1 a 0 1 a 0 1 a 0 signori non ci credevo neanche io non ci credevo neanche io giocatore in prestito dal bayern andiamo in vantaggio andiamo in vantaggio signori andiamo in vantaggio uscita del merda di oblac kimish di testa di testa 1 a 0 signori qualità non ci credo ragazzi non ci credo non ci credo questo secondo me ce lo rimandano indietro subito poi a giugno siamo in vantaggio signori siamo in vantaggio contro il bayern monaco mamma mia ragazzi voi non capite la tensione come poi non capite la tensione occhio perché questi si fanno subito sotto noi come sempre sfogliamo alla grande interventi difensivi che ità forsberg lam se lo beve attenzione vidal che ha un tiro attenzione lewandowski in trenare a l'indelov su di lui bravo cazzo in culo però nukuri occhio qua ragazzi lo sfollone lewandowski tira fuori per fortuna mamma mia ragazzi che tensione cioè vi giuro che io non mi sarei mai 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 immaginato di arrivare a giocare una partita in carriera su fifa con attenzione del genere timone werner apre per baccali alaba però lo copre perché alaba è un cazzo di siluro vuoteng piano piano però stiamo uscendo attenzione timone werner timone verner la palla perché ità che ità nabi che ità tira una scoreggina lewandowski occhio ragazzi allargano non c'è nessuno dentro non c'è nessuno dentro non c'è nessuno dentro donna rumma mamma mia ho sbagliato sbagliato l'invio sbagliato l'invio cazzo grande forsberg finisce poi primo tempo finisce come primo tempo tutto 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 ragazzi è così è se ho la macchinetta per le pulsazioni esplode chi mi c'è stanco però lo voglio tenere in campo caso mai dopo inseriamo le mina inizia il secondo tempo raga che ità dentro per verner subito veloce per baccali apre per klosterman prova il cross new curic arriva di testa con verner in fuori gioco palla che però è scialato go black corto su alaba xabi alonso verner recupera palla serve subito emilio forsberg kimmich attenzione verner attenzione verner che non arriva a tirare kimmich però al sinistro di kimmich centrale cinquantesimo raga raga sto imbecchiando ste robe come mi fanno perdere anni di vita alonso tiago al cantara kimmich su di lui si gira è bel dialogo ragazzi bel dialogo bel dialogo didal levandoschi occhio occhio vidal donna ruma forsberg eh qua sta spingendo loro adesso new curie sbaglia però la palla gli resta attenzione sì attenzione no new curie new curie per timo werner palla un po' lunga la porcaccia la santissima stavo per tirare un bestemmione incredibile vidal la butta fuori occhio ancora la palla su coman l'indietro xabi alonso largo alaba e raga e raga vidal bravo keita subito poi per baccali mi piace mi piace mi piace baccali per kimmich posizione regolare gioshua è stanchissimo apre per emilio forsberg il tiro di emilio forsberg la palla kimmich la respinta non ci credo arriva keita no no ragazzi no no ste cose mi scoppia la vena mamma mia signori mamma mia signori mamma mia io non posso non posso non posso non posso ragazzi non posso ci resto qua vai 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 che partito emilione forsberg si si prova il tiro giro la respinta la palla ancora nostra dai cazzo ragazzi si closterman prova closterman dalla distanza la bomba la deviazione o black la fa sua 72esimo raga attenzione tiago si gira sbaglia tutto sbaglia tutto sbagliamo anche noi sbagliamo anche noi sbagliamo anche noi sbagliamo che noi sce l'indelov robin tiago attenzione robin la deviazione di papadopoulos mancano dieci minuti non voglio soffrire mai più così il calcio d'angolo provano a buttarla dentro provano a buttarla dentro c'è levandoski la palla ancora lì poi sbaglia 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 ragazzi sbagliano sbagliano molto bene occhio ragazzi che loro salgono occhio ragazzi attenzione coman sono tutti in area loro palla che finisce a nostro donnarumma e io la tengo signori che un po' un po' la tengo attenzione ragazzi attenzione ragazzi perdere palla a centrocampo è veramente da suicidarsi bello timone per forsberg forsberg la palla arriva dentro per nukurika c'è la spallata di badstuber dai ragazzi 87esimo 3 minuti più recupero coman coman se ne va in fascia coman se ne va in fascia crossa dentro donnarumma disperato coman donnarumma subito baccali kimmich ancora baccali vai timone parti vai timone parti timone 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 contro alaba ci arriva prima lui e poi ho black con i piedi esce è finita è finita signori campioni 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 signori siamo campioni non ci credo ragazzi gol di kimmich vi da il disperato siamo campioni in bundesliga devo dissetarmi perché ho la gola finita in casa ragazzi miei non ci credo non ci credo sono troppo felice mamma mia ragazzi non ci credo a cazzo non ci credo perché la mei qua di kimmich è ristabilito l'ipsia 71 l'ipsia 71 bayern monaco 66 ragazzi andiamo a giocarci l'ultima partita di questa stagione contro il francoforte formazione titolare ovviamente ah poi ragazzi una cosa adesso per tutti quelli che mi dicono gioca leggenda bla 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 leggenda eccetera eccetera io intanto ve lo dico lo sapete lo vedete dai video comunque gioco per divertirmi per divertirci a livello campione mi trovo bene potrò provare leggenda la squadra secondo me come livello adesso medio della squadra a campione ci sta avete visto che comunque le partite vanno un po' come vanno perché non è che io sia un pro gamer di fifa anzi non mi ritengo assolutamente un grandissimo giocatore bella la coreografia di curva del francoforte quindi vediamo la prossima stagione cominciamo magari se mi gira ragazzi guardate che bella la classifica invece signori miei e vamos come direbbe giorgione mi raccomando in descrizione sempre i link ai canali dei brainless andatevi a vedere anche le loro carriere e andate a commentargli che la mia è più bella ovviamente si gira attenzione vuole accentrarsi vuole accentrarsi provare a seguire new curry new curry la finta attenzione new curry new curry cazzo new curry potevi tirare perché non l'hai fatto il passaggio flum mi fa fuori due ma la corta il tiro uh bombarda di chandler ragazzi andiamoci dentro seferovic stendira stendera stendino bagnafiori uh orco can ragazzi stiamo soffrendo male cioè non so che cazzo abbiano questi qua del francoforte l'ultima giornata di romper le palle così ancora werner però bravo bravo timone bravo timone bravo timone cattivone bravo timone cattivone rientra timone poi spara a un destro che il portiere manda fuori attenzione signori triangoli ustli occio che rientrano il tiro di stendera la palla che rimane lì glosterman quante volte l'avrò detto nei video la palla che rimane lì grimaldo perde palla che età verner prova a andarsene verner prova a andarsene verner se ne va werner se ne va werner arriva il tiro che gira intorno a kimmich giro giro tondo seferovic largo per dos santos rimaldo sustli marcalo che questo rompi palle la mette dentro donna rum in anticipo kimmich finisce qua il primo tempo mentre io ho soffocato un rutto raga facciamo così visto che kimmich è stanco mettiamo dentro lemina diamogli l'ultima apparizione in campo visto che tornerà la juve anche se ultimamente mi è piaciuto ma se devo valutare la stagione completa il giocatore poi che è salito a 80 sti cazzi prego juve alex meier apre allarga e sbaglia tutto e si vabbè oz picca come cazzo si chiama oz di picca fabian vediamo se recuperiamo si la pa- ma poi perché ma uh uh ultimone verner ultimone verner così dal nulla ultimone verner così dal nulla 1-0 al 72esimo il nostro capitano mette la firma anche sull'ultima partita di campionato e poi riesce a traforare il portiere occhio però perché si può sempre prenderlo un gol madonna ruma ci mette le ali e ci mette le mani e poi facciamo questi rinvii facciamo questi rinvii che ci fanno male sbaglia però era già partito troppo avanti il compagno e poi c'è Keita che ammazza tutti oddio un fallo ed è punizione attenzione perché Lindelof rischia di prendersi un cartellino ma l'arbitro non lo grazia vediamo se fanno un cazzo guardiamo tutti l'arbitro Baccali apre per Klosterman attenzione Klosterman attenzione Klosterman dentro per timone verner la palla per Baccali Baccali 2 a 0 il 2 a 0 di Baccali il 2 a 0 di Baccali signori novantesimo due minuti e 28 29 di recupero Baccali signori Baccali 2 a 0 qualità Zaccaria Baccali altro giocatore che saluteremo e finisce finisce la nostra prima stagione finisce non ci credono ragazzi non ci credono non ci credo neanche io che età le mina si abbracciano che bello che bello signori che bello inquadratemi timone verner guarda che figata cioè voi l'avrete già vissuto perché ovviamente avrete finito miliardi di carriere ma io sono estasiato estasiato timone verner tutti che ballano al centro campo mamma mia ragazzi mamma mia attenzione c'è pure la premiazione timone verner battere ma spettacolo ragazzi confetti 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 le mina che spettacolo spettacolo signori spettacolo spettacolo me la guardo la premiazione eccolo lì lo scudo della bundes ole mamma mia ragazzi red bull league sia campione di germania alla nostra prima stagione campioni di germania timo verner alza lo scudo alza lo scudo timone mamma mia sono no sono troppo contento sono troppo contento signori troppo 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 contento troppo contento ma ma che figata di animazioni ma che figata per me è tutta roba nuova quindi io cadrò dalle nuvole raga però lasciatemi essere felice ecco lì qua i nostri ragazzi i nostri ragazzi signori è stata veramente una bella stagione adesso parlo con voi vabbè i fuochi d'artificio in pieno giorno proprio la candelina sono contentissimo di come sta andando la carriera veramente contentissimo mi piacciono i commenti che mi lasciate mi piace il supporto che state dando a questa carriera ovviamente adesso la carriera andrà avanti perché arrivano Robben arriva Ribery andiamo in Champions League l'anno prossimo dobbiamo pensare subito a costruire una squadra che possa gestire tre competizioni perché ci sarà anche la Coppa dalla quale noi la Coppa Nazionale la Deutsche Opel dalla quale siamo usciti subito il Bayern vince 2-1 col Friburgo ma è inutile andiamo a vedere l'ufficio cosa ci dicono ragazzi un giovane vuole andare via Lisandro Dominguez va bene premio torneo 37 milioni 37 milioni 879 1600 euro ragazzi allora offriamo il contratto Alessandro Dominguez che ha un valore di 600 mila euro magari lo manderemo in prestito ragazzi io direi di avanzare per il mese di maggio fino a che arriviamo a giugno tra l'altro sono curioso di vedere se cambiano anche gli obiettivi della squadra perché sicuramente mi diranno qualcosa di nuovo interruzione contratti di giocatori in scadenza quindi andiamo a vedere Rani Kedira è in scadenza vorrei rinnovarlo per poi mandarlo in prestito magari ha rifiutato il contratto 78 quello che volevi alla durata vabbè vaffanculo avanziamo anche per tutto il mese di giugno devo ricordarmi di fare gli allenamenti iniziano a rientrare i giocatori del prestito quindi avremo altri giocatori a disposizione devono essere andati via i miei ma al momento non sono ancora partiti attenzione contratti di giocatori in scadenza Rani Kedira di nuovo mi pare però di aver letto un'email molto più interessante perché è tornato il nostro Yusuf è tornato il nostro Yusuf Paulsen ragazzi e avrà tempo adesso e quasi quasi sto pensando a un cambio di modulo in modo da far giocare i Ribery Robben Paulsen e Werner tutti insieme altre email Rani Kedira rifiuta ancora vorrei chiarezza sul mio ruolo sei uno spaccapalle adesso ha accettato il contratto bene hai capito che quello è il tuo posto andrai via in prestito perché hai rotto la minchia eccoci qua siamo pronti a terminare la stagione attenzione leggiamo le email prestito del giocatore scaduto Papadopulos grande grande giocatore veramente farò di tutto per riaverlo in squadra perché questo è stato un grandissimo difensore per noi rientra giocatore del prestito rientra un altro giocatore del prestito rientra un altro ancora giocatore del prestito abbiamo vinto il premio allenatore dell'anno grazie siamo dunque pronti per terminare la nostra prima stagione signori e quindi clicchiamoci sopra analisi di fine stagione siamo giunti al termine della stagione la dirigenza non può che essere soddisfatta per i risultati raggiunti finora che ci hanno permesso di centrare gli obiettivi prefissati sia dentro che fuori dal campo inoltre i giocatori e lo staff sono chiaramente entusiasti di lavorare con lei saremo pertanto felici di averla ancora con noi anche nella prossima stagione cordialmente la dirigenza e quindi la dirigenza ovviamente ci vuole e adesso carichiamo la nostra seconda stagione oh mi sento gasatissimo ragazzi fatemi veramente nei commenti esprimetemi un po' soprattutto per chi ha visto tutti gli episodi per chi mi ha seguito dall'inizio anche per voi cos'è un po' fare la carriera su fifa perché io forse ovviamente facendola portandola con i video mi ci sono veramente affezionato sta squadra qua è una cosa non avrei mai pensato sinceramente qui può richiedere alcuni minuti quindi io posso berli un camion un container di redbull eccoci qua signori ci siamo andiamo subito in ufficio non avanzo neanche di un giorno vendita magliette come saprà il merchandising è una fonte di guadagno importante durante l'ultima riunione siamo posti l'obiettivo di guadagnare 30 milioni della vendita delle magliette dei giocatori andiamo a vedere gli obiettivi per la prossima stagione ragazzi miei finanze molto basso cioè abbiamo proprio soldi da spendere successo in patria sempre sedicesimi di finale come l'anno scorso per la dolce focale terminare a metà classifica in bundesliga qualificarci per l'europa league entro due stagioni cioè non vorrei dover arrivare per forza sesto per qualificarmi in europa league champions raggiungiamo la fase di eliminazione diretta quindi dobbiamo superare i gironi fama del brand abbiamo visto le magliette crescita giovani ingaggiare due giovani in prima squadra nella stessa stagione in cui è stato seguito sono stati seguiti schierarli per 10 partite dall'inizio o a gara in corso questo è un obiettivo interessante veramente interessante e poi ingaggiare meno 3 giocatori con meno di 20 anni con un potenziale superiore alla valutazione media dei giocatori attualmente in quel ruolo non ho capito un cazzo so solo che ho una miriade di gente in primavera quindi li promuovo tutti e li mando tutti in prestito praticamente dunque io ora inizio già a sistemare i giocatori che voglio mandare in prestito che voglio vendere in modo che poi episodio prossimo il mercato inizia a bomba voi che avete resistito fino alla fine cominciate a farmi dei nomi per i giocatori mi raccomando come sempre mi serve un'ara destra mi servono centrocampisti un difensore centrale non sono ancora arrivati Robben e Ribery quindi vediamo non lo so quando arrivano comunque arriveranno insomma spero che non siano morti noi ci vediamo signori al prossimo episodio grazie veramente di tutto per seguire questa carriera mi raccomando sempre qualità ciao belli